Ma chi c'ha una cagnolina così bella? Chi c'ha una cagnolina così bella? Bella la mia cagnolina! Muah! CINAAAAA! Madonna vai in casa che ti vengono i veri! Ma lo sai chi è morto? No chi? Natalino! Quel vecchietto che abita a terzo piano! Ma 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 poverino! Ma cos'è successo? Ha ingoiato cinque pastiglie di viagra! Oh madonna! Pensa ci sono quelli delle pompe funebri che sono tre ore che cercano di chiudere la cassa!